Al via i lavori per la realizzazione della nuova strada che correrà lungo la strada alle 16 e collegherà due ponti sul fiume Saline e Città Sant'Angelo sul fiume Piomba nel territorio di Silvi. Un'opera tanto attesa che consentirà di utilizzare il ponte sul Piomba già costruito da tempo ma mai usato e di migliorare la viabilità nella zona sud di Silvi, molto popolosa e turistica. La nuova strada sarà inoltre affiancata da una pista ciclabile e da parcheggi. Ma indubbiamente siamo soddisfatti del lavoro dell'amministrazione della città Sant'Angelo perché mancava proprio il loro tratto. Finalmente un'opera strategica che aspettiamo da diversi decenni e siamo convinti che sarà un motore di sviluppo soprattutto per l'intero territorio anche e soprattutto per la nostra città. La nuova strada offrirà una valida alternativa alla stata alle 16 spesso congestionata dal traffico soprattutto in estate. Anche la vice sindaca di Silvi, Luciana Di Marco, ha espresso grande soddisfazione per l'inizio del cantiere e ha alleggiato il sindaco di città Sant'Angelo, Angelo Perazzetti, per aver superato le difficoltà legate agli espropri dei terreni e alle trattative con i privati. L'inaugurazione della nuova strada è prevista per aprile, lavori che però ricordiamo nel passato erano stati al centro di alcune polemiche tra i due comuni. Indubbiamente abbiamo avuto fasi difficili, però oggi ci prendiamo questa bellissima notizia e soprattutto in attesa di concludere questa opera strategica perché guarda soprattutto Silvi, guarda l'area metropolitana di Chieti Pescara e questo collegamento che collegherà appunto il Comune di Silvi al Comune di Città Sant'Angelo ci apre una prospettiva totalmente diversa. Grazie 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 Grazie